Oggi a Palazzo di Città a Pescara è stato presentato il progetto Affissioni a cura della cooperativa La Nave. Vogliamo spiegare in cosa consiste questo progetto e quali sono le finalità? Allora, il progetto Affissioni è il primo dei progetti che la cooperativa La Nave, in consorzio con la cooperativa Aurora, realizza nell'ambito delle iniziative che si prefigge di perseguire, cioè quelle di realizzare attraverso il coinvolgimento di imprese e di enti pubblici, il famoso impresa e sociale. Quindi coinvolgere le cooperative sociali che operano sul territorio in reti di imprese e sinergie anche di altra tipologia per produrre dei progetti che possano portare un valore aggiunto a chi li riceve e a chi li eroga. Nello specifico il progetto Affissioni riguarda proprio tutto il ciclo di vita dell'affissione nella città. Quindi quando vediamo i manifesti, in realtà ciò che vediamo affisso è la finalizzazione di un lavoro un po' più articolato che parte dalla ricezione del materiale da affiggere, dalla timbratura, dalla piegatura, dalla registrazione nel database e poi finalmente all'apposizione negli impianti del comune di Pescara. Quindi questi ragazzi, questi ragazzi fantastici, hanno realizzato come abbiamo visto anche nel video di presentazione queste attività tutte quante da loro e con enorme entusiasmo ed è bello quello che dicono io lavoro e mi diverto.